Buongiorno, che bello, è incinta. Oh sì. Quanto manca per il patto? Beh, sono entrata se non sbaglio nell'ottavo mese. Ah, quindi agli sgoceri. Come la chiamerai se femminuccia? Se femmina, Maria, Carmela, Titina, Annunziata, qualcosa del genere. E se un maschietto? E se maschio, Ciro, Salvatore, Gennaro, andiamo. Va bene, tanti auguri, auguri veramente. Grazie mille, grazie mille. Vado, voglio andare a fumare una sigaretta. Che bella pancia, sei in dolce attesa. Sì. A che mese stai? Sono alla 34esima settimana. Complimenti, che bella pancia. Ma che ami? Suami, o Fatima, o Christel, o Azzurra. Belli, e sei maschio? Beh, sei maschietto, o Nicolas, Nicolò, Giosuele, Samuel, mi piacciono i nomi particolari. Brava, brava, auguri, comunque auguri. Grazie, se mi vuole scusare adesso voglio andare a fare un po' di riposino, eh. Arrivederci. Che bel pancione che hai, che hai gli sgoccioli. Sì. Complimenti. E a che mese stai? 240 giorni, 35 minuti e più o meno 20 secondi. Ah, cioè. Vabbè, e se femmina, già hai deciso il nome? IT 340, 75, 9, 42, 74, ETE. E praticamente sarebbe il numero del mio IBAN. È originalissimo e se maschio o femmina va bene per entrambi. Se mi puoi scusare adesso che ho un corso di yoga per ragazze incinte e poi ho più tardi un'ecografia in 7D che mi fa vedere tutto, praticamente anche quando è lungo l'unghia del dito, un mignolo e addirittura mi dice l'anno di morte di mio figlio, mia figlia. Ciao. Oddio, che orrore.